Pedizione punitiva. I braccianti si riunirono in piazza e cominciarono a far fracasso perché volevano lavoro dal comune, ma il comune non aveva soldi. E allora il sindaco Peppone si affacciò al balcone del municipio e gridò che stessero calmi perché ci avrebbe pensato lui. «Tigliate macchine, motociclette, camion, birrocci e portatemeli qui tutti fra un'ora», ordinò Peppone ai Capoccia riuniti nel suo ufficio. Ci vollero invece tre ore, ma alla fine tutti i più facoltosi proprietari terrieri e affittuari del comune erano radunati, pallidi e sbigottiti, nella sala del consiglio e giù da basso la folla rumoreggiava. Peppone fu spiccio. «Io arrivo fin dove posso arrivare», disse Brusco. «La gente che ha fame vuole pane, non belle parole. Dunque, o voi cacciate fuori mille lire per ettaro, nel qual caso si fa lavorare la gente per l'utilità pubblica, o io come sindaco e come capo delle masse operaie. Me ne lavo le mani». Il Brusco si affacciò al balcone e spiegò alla gente che il sindaco aveva detto questo e quest'altro. Avrebbe poi riferito le risposte degli agrari e la gente rispose con un urlo che fece impallidire i prelevati. La discussione non durò molto e una buona metà firmò l'impegno di offrire spontaneamente tanto per ettaro e pareva che dovessero firmare tutti. Quando arrivati al vecchio Verola, l'affittuario di Campolungo, l'affare si bloccò. «Non firmo neanche se mi ammazzate», disse il Verola. «Quando ci sarà la legge, allora pagherò. Adesso di soldi non ne do». «Ve li verremo a prendere», gridò il Brusco. «Sì, sì, sì, sì», borbottò il vecchio Verola, il quale a Campolungo, tra figli, figli dei figli, mariti delle figlie e nipoti, poteva mettere assieme una quindicina di schioppi di buona mira. «Sì, sì, certo, la strada la sapete». Quelli che avevano firmato si morsero le mani per la rabbia e gli altri dissero «Se non firma Verola non fermiamo neanche noi». Il Brusco riferì a quelli della piazza e quelli della piazza urlarono che o buttavano giù il Verola o sarebbero saliti loro a prenderlo. Ma Peppone allora si fece al balcone e disse che non facessero stupidaggini. «Con quello che abbiamo tenuto possiamo andare avanti tranquilli due mesi. Intanto, senza uscire dalla legalità come abbiamo fatto finora, troveremo il modo di convincere il Verola e gli altri». Tutto andò liscio e Peppone in persona riaccompagnò in macchina il Verola per convincerlo. Ma per tutta risposta, quando scese davanti al ponticello di Campolungo, il vecchio disse «A 70 anni c'è una sola paura, quella di dover campare ancora molto». Dopo un mese si era lo stesso punto di prima e la gente si inviperiva sempre di più ed ecco che una notte successe il fatto. Don Camillo fu avvertito subito la mattina presto e corse a Campolungo in bicicletta. Trovò tutti i Verola riuniti in un campo, in fila, che guardavano per terra muti come sassi a braccia concerte. Don Camillo si fece avanti e rimase senza fiato. Mezzo filare di viti era stato tagliato al piede e i tralci abbandonati fra l'erba parevano bisce nere e su un olmo c'era inchiodato un cartello. Primo avviso». «A un contadino, tagliategli magari una gamba piuttosto che tagliargli una vite, gli fate meno male». Don Camillo ritornò a casa atterrito come si avesse visto mezzo filare di assassinati. «Gesù» disse al Cristo «qui non c'è che una sola cosa, trovarli e impiccarli». «Don Camillo», rispose il Cristo, «dimmi tu, se ti duole la testa, tu te la tagli per guarire il male». «Però le vipere velenose si schiacciano», gridò Don Camillo. «Quando il padre mio ha creato il mondo, ha fatto una distinzione precisa fra animali e uomini, il che significa che tutti coloro che appartengono alla categoria degli uomini rimangono sempre uomini qualunque cosa essi facciano e vanno perciò trattati da uomini. Altrimenti, invece di scendere in terra per redimerli, facendomi mettere in croce, non sarebbe stato molto più semplice annientarli?» Quella domenica Don Camillo parlò in chiesa delle viti assassinate come se le avessero tagliate a suo padre che era contadino. Si commosse, divenne lirico, ma quando a un tratto vide Peppone tra i fedeli diventò sarcastico. «Ringraziamo l'Eterno, il quale ha collocato il sole alto nel cielo e intoccabile, altrimenti qualcuno, per far rispetto all'avversario politico venditore di occhiali affumicati, già l'avrebbe spento. Ascolta, popolo, il verbo dei tuoi capi, essi posseggono la vera saggezza. Essi ti insegnano che per pulire il calzolaio esoso tu devi tagliarti i piedi». E continuò a fissare Peppone come se il discorso lo facesse soltanto per lui. «Verso sera» Peppone apparve in canonica «Cupo». «Voi», disse, «ce l'avevate mica con me stamattina?» «Io ce l'ho semplicemente con quelli che mettono nella testa della gente certe teorie», rispose Don Camillo. Peppone strinse i pugni. «Don Camillo, voi non avrete forse l'idea che sia stato io a insegnare a quelli là di andare a tagliare le viti del verola?» Don Camillo scosse il capo. «No, tu sei un violento, ma non sei un vile, ma sei tu che scateni questa gente». «Ah no, io cerco di frenarla invece, ma la gente mi scappa». Don Camillo si alzò e andò a piantarsi a gambe larghe davanti a Peppone. «Peppone», disse, «tu sai chi è stato a tagliare le viti». «Non so niente», esclamò Peppone. «Tu sai chi è stato, Peppone, e se tu non sei diventato l'ultimo dei farabutti o degli imbecilli, sai pure che il tuo dovere è di denunciarli». «Io non so niente», insiste Peppone. «Non solo per il danno morale e materiale prodotto dalle trenta viti tagliate, tu devi parlare. È come un punto che si rompe in una maglia. O lo fermi subito, o domani la tua maglia sarà distrutta. Tu che sai e non intervieni, sei come l'uomo che vede il mozzicone acceso nel fienile e non lo spegne. Fra poco tutta la casa sarà distrutta per colpa tua e non per colpa di chi anche dolosamente ha gettato il mozzicone». Peppone insisté che non sapeva niente, ma Don Camillo lo incalzava e gli toglieva il fiato e alla fine si arrese. «Non parlo nemmeno se mi scannate. Nel mio partito c'è fior di galantuomini e per tre mascalzoni...» «Ho capito», lo interruppe Don Camillo, «se domani si sapesse una cosa simile, gli altri diventerebbero talmente aggressivi e spavaldi che ci sarebbe da fare alle schioppettate». Don Camillo passeggiò a lungo in su e in giù e infine si fermò. «Ammetti almeno che quei farabutti meritano una punizione? Ammetti che bisogna fare in modo che essi non ripetano il crimine che hanno commesso? Ah, sarei un maiale se non lo ammettessi». «Va bene», concluse Don Camillo, «aspettami qua». Venti minuti dopo Don Camillo rientrò vestito di fustagno, alla cacciatura, con stivali ai piedi e in testa un berrettaccio. «Andiamo», disse intabarrandosi. «O dove? Alla casa dei primo dei tre. Ti spiego lungo la strada». Era una sera buia e piena di vento e non c'era un'anima per le strade. Giunto nei impressi di una casa isolata, Don Camillo si imbacucò con lo sciarpone fino agli occhi e si nascose nel fossato. Peppone invece andò avanti, bussò, entrò e dopo un po' ritornò insieme ad un uomo. Al momento giusto Don Camillo saltò su dal fosso. «Mani in alto», disse cacciando fuori il mitra. I due alzarono le braccia. Don Camillo buttò loro in faccia alla luce di una lampadina elettrica. «Tu fila senza voltarti», disse a Peppone e Peppone filò. Don Camillo spinse l'altro in mezzo a un campo, lo fece sdraiare faccia a terra e tenendo il mitra con la sinistra, con la destra gli pitturò sul sedere dieci inerbate da far levare il pelo a un ippopotamo. «Primo avviso», spiegò. «Hai capito?» L'altro fece di sì con la testa. Don Camillo trovò Peppone che lo aspettava al posto convenuto. Il secondo fu più facile da accalappiare perché, mentre Don Camillo, nascosto dietro la casetta del forno, architettava con Peppone un piano diverso dal primo, l'uomo uscì per attingere un secchio d'acqua e Don Camillo lo colse al volo. Finita la lavorazione, anche il secondo prese buona nota che si trattava del primo avviso e disse che aveva capito. Don Camillo aveva il braccio indolenzito perché aveva fatto le cose con coscienza e si sedette dietro una macchia a fumare un mezzo toscano insieme a Peppone. Poi il senso del dovere lo riprese e spense il toscano contro la corteccia di un albero. «E adesso al terzo», disse alzandosi. «Il terzo sono io», rispose Peppone. Don Camillo si sentì mancare il fiato. «Il terzo sei tu?» balbettò. «E perché?» «Se non lo sapete voi che siete in collegamento col Padre Eterno. Come volete che faccia a saperlo io?» gridò Peppone. Poi buttò via il tabarro, si sputò nelle mani e abbrancò con rabbia il tronco di un albero. «Picchia, prete maledetto!» gridò a denti stretti. «Picchia o picchio io?» Don Camillo scosse il capo e si allontanò senza parlare. «Gesù», disse Don Camillo costernato quando fu davanti all'altare. «Non avrei mai immaginato che Peppone...» «Don Camillo, quello che tu hai fatto stasera...» «È orrendo!» lo interruppe il Cristo. «Io non ammetto che un mio sacerdote si metta a fare delle spedizioni punitive. Ma Gesù perdonate al vostro indegno figlio!» sussurrò Don Camillo. «Perdonate a me come l'Eterno Padre ha perdonato voi quando avete preso annerbate i mercanti che contaminavano il tempio!» «Don Camillo», disse il Cristo rasserenato, «voglio sperare che adesso non mi rimprovererai un passato di squadrista!» Era offeso e umiliato. La faccenda di Peppone, assassino di viti, non gli andava giù. «Don Camillo», lo chiamò il Cristo, «perché ti rodi?» «Peppone ha confessato che si è pentito. Il cattivo sei tu che non lo assolvi. Don Camillo, fai il tuo dovere!» Solo nella officina deserta, Peppone, con la testa tuffata nel cofano di un camion, stava avvitando con rabbia un bullone. Quando entrò Don Camillo, Peppone rimase curvo sul motore e Don Camillo gli pitturò dieci inerbate in fondo alla schiena. «Ego te absolvo», disse appioppandogli una pedata extra, «e così impari a darmi del prete maledetto!» «Ma buon rendere», disse Peppone a denti stretti, sempre con la testa nel cofano del camion. «L'avvenire è nelle mani di Dio», sospirò Don Camillo. Uscendo buttò il nerbo lontano e la notte sognò che rincasando il nerbo si conficcava per terra e subito metteva fronte fiori e pampini e ben presto si caricava di grappoli di uva dorata.